Il barattolo della calma è un ausilio veramente prezioso per far ritrovare equilibrio e serenità ai nostri bimbi dopo momenti di rabbia o di pianto. Vediamo come costruirlo assieme. Occorrerà prendere un barattolo di plastica o un vetro, come nel mio caso, e riempirlo per metà di acqua. Aggiungere a quest'acqua del colorante alimentare, preferibilmente azzurro o blu, colori che danno maggior serenità e calma. Dopo aver aggiunto questo colorante alimentare, andremo a shakerare un po' il barattolo per vedere l'intensità del colore ottenuto. Se non siamo contenti, possiamo aggiungere ancora colorante alimentare oppure colla glitterata di colore blu, per renderlo proprio maggiormente intenso e denso in quanto a consistenza. Di seguito, andremo ad aggiungere dei glitter, in questo caso io li ho scelti di colore argento, nella quantità che preferiamo. Possiamo ovviamente che puoi aggiungere in un altro momento oppure aggiungerne altri di colori diversi, come nel mio caso, quelli di colore blu. riempiamo il barattolo fino alla sua estremità di acqua, preferibilmente calda. E come vi dicevo, se non siete soddisfatti della quantità di glitter, potete tranquillamente aggiungerne ancora fino al vostro piacimento, per renderlo sempre più brillante e magico. Chiudiamo il barattolo, sciacchieriamo e guardiamo che cosa abbiamo ottenuto, un effetto veramente strabiliante che recupererà i nostri bimbi attraverso lo stupore la calma perduta.